Primo posto per l'Istituto Comprensivo Ferraris di Falconara Marittima, 35esimo per il Cecchi di Pesaro e 71esimo per il Fermi di Ascoli Piceno. Un risultato importante è quello conseguito dalle scuole regionali che hanno risposto al bando, emanato dal Dipartimento Nazionale per le pari opportunità, per la realizzazione delle iniziative previste nel Piano d'Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Oltre 500 gli istituti che a livello nazionale hanno partecipato all'iniziativa, con una previsione di finanziamento destinata a 90 progetti per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro. I progetti sono stati presentati nel corso di un incontro a Palazzo delle Marche, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Antonio Mastrovincenzo, della Presidente della Commissione Pari Opportunità Mary Marziali, della Dirigente Scolastica del Ferraris Maria Ambrogini e del Professor Gianluca Canteluccio per il Fermi. Soddisfazione è stata espressa da Mastrovincenzo e Marziali per il risultato conseguito dalle scuole marchigiane. Questo concorso è stato importante perché ha lanciato il tema della violenza di genere nelle scuole, è importante il coinvolgimento dei giovani, una scuola di Falconara ha vinto il concorso a livello nazionale, altre si sono classificate in un'ottima posizione. Sul tema della violenza di genere c'è una grande attenzione finalmente anche da parte dei media, del Parlamento che negli ultimi anni ha varato la legge sullo stalking e anche a livello dei finanziamenti ci sono novità importanti perché ad esempio negli ultimi tre anni sono stati stanziati 45 milioni di euro per tutto il territorio nazionale per iniziative su tutto il territorio nazionale e alle marche sono state destinate 800 mila euro. Oggi presentiamo tre progettualità che sono state premiate e finanziate dal Dipartimento delle Pari Opportunità relativi a tre istituti scolastici della nostra regione, tra cui un istituto si è classificato proprio primo su oltre 500 progetti relativi all'educazione di genere, al contrasto a quello che sono gli episodi di violenza e siccome molto spesso diciamo che la violenza contro le donne è un fattore di carattere culturale noi riusciremo a contrastare dal punto di vista culturale, quindi produrre questo cambiamento proprio partendo dalle nuove generazioni e quindi dalle scuole.